Tieni, la sfilata sta per cominciare. Stella! La collezione che state per ammirare si chiama Luce di Solaria. Questo primo look rappresenta la mia idea di fata contemporanea. Sì! Brava! Mi avevi detto che era un'emergenza. Beh, lo era in quel momento. Stella, ascolta. Non posso parlare ora. Questo si chiama Colori Magici. Modelle non professioniste, che ci vuoi fare? Il mio prossimo look. Ehi! Dove credi di andare? Una vera delusione. Non metterei mai quei vestiti. Già, sono strani.